Il mio gatto è stato sparato con una pistola ad aria compressa. A denunciarlo attraverso un post su Facebook, Ilaria Procida, da sempre impegnata sul territorio come volontaria per la tutela degli amici a quattro zampe, è successo in via Mendola, in pieno centro ad Agropoli. Ho impiegato mesi per farmi accettare da ciccio il mio gatto, scrive Ilaria nel suo post, al punto che oggi sono l'unica da cui lui si fa prendere, curare e coccolare. Purtroppo non ho la possibilità di tenerlo in casa a causa dei miei cani, per cui più che metterlo nel disimpegno per la notte o quando fa eccessivamente freddo, non posso fare. È stato castrato, viene sfamato e curato. A rientro dal lavoro ho notato un buco sul lato destro del suo addome. Il veterinario che l'ha visitato ha confermato la mia ipotesi. Ciccio è stato colpito dal proiettile di una pistola ad aria compressa. Fermo restando la gravità del gesto, scrive Procida. È stato sparato all'addome con il chiaro intento di mirare agli organi vitali. Mi chiedo allora che tipo di persone siete. Ciccio per il momento non è stato ancora operato, devo prima curargli l'infezione e soprattutto mi auguro che possa sopravvivere. Poi verrà sottoposto ad operazione chirurgica per la rimozione del proiettile. Ho già preso appuntamento per sforgere denuncia contro ignoti, ma chiedo a chiunque abiti nelle vicinanze di via Mendola di farmi sapere, anche in forma anonima, chi può essere il responsabile. Chiunque si occupi di animali ad Agropoli, stia attento, fa sapere amareggiata e l'aria procida.